C'è in città che ha il mister, che ha lo staff, che hanno i ragazzi, da subito penso che le partite anche che hanno disputato i ragazzi finora si sia vista questa passione che ci mettono e quindi ho atteso volentieri tutto questo tempo. Per quanto riguarda l'esordio sono contento perché sono ritornato in campo, siamo riusciti a pareggiare e questo era l'importante. Il mister mi ha chiesto se non ho sentito di giocare lì, proprio poco prima di entrare nel PDC perché è comunque il ruolo che mi piace. Era il momento di spingere un po' di più e penso sia visto che l'abbiamo fatto. Secondo me attaccavamo di più che stavamo dietro a difendere perché con la loro espulsione insomma loro si erano abbassati un po' e quindi noi eravamo più offensivi invece che difendere, quindi non credo neanche di aver dipeso così tanto. Insomma si è stati lì davanti a fare un po' di specchio però eravamo più propositivi.